Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi giornata particolare per i fedeli siracusani, non soltanto amatissimi in tutto il mondo, la patrona Santa Lucia. Oggi ultimo giorno delle celebrazioni, in suo onore un evento che noi come sempre seguiamo anche in diretta. Oggi ultimo giorno dei festeggiamenti per la patrona della città Santa Lucia che attraverso Ortigia nella tradizionale breve passeggiata per salutare i suoi fedeli a partire dalle 19. Dalla chiesa alla Badia torna infatti nella sua casa naturale all'interno della cattedrale una serie di spostamenti che le nostre telecamere seguiranno in diretta dalle 18 e 30 fino al termine dell'evento. Un momento di profonda fede e commozione durante il quale la folla si stringe intorno alla ragazzina siracusana assurta al ruolo di protettrice della città, simbolo di purezza e ostinazione nella protezione dei valori e dell'amore nei confronti di Dio. La scorsa domenica il ricordo del miracolo del 1646 quando durante una grave carestia sbarcarono al porto di Siracusa alcuni bastimenti carichi di grano. Per tradizione si attribuisce quell'evento all'intercezione di Santa Lucia e da loro il ricordo del miracolo e per questo ogni anno, come domenica scorsa, il simulacro viene portato fuori dalla cattedrale e condotto nella chiesa di Santa Lucia alla Badia. E poi la processione inversa, quella di oggi, si evita alle nostre telecamere in diretta con il ritorno del simulacro in cattedrale dopo aver attraversato il centro storico partendo proprio dalla chiesa alla Badia, sempre in piazza Duomo. Parliamo di porti, 145 mila euro per i precari di quello di Augusta e 76 mila per quelli di Siracusa. Vediamo le novità. L'assessorato regionale delle autonomie locali ha disposto l'erogazione di un contributo pari a 145 mila euro per il comune di Augusta e 76 mila euro per il comune di Siracusa. La legge 5 aveva previsto che per compensare gli squilibri derivati dall'applicazione delle disposizioni di legge che aveva abrogato tutte le norme in favore dei lavoratori apparenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili era istituito un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell'assessorato, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse del contributo già connesso per ogni singolo lavoratore alla data 31 dicembre. Con la legge regionale sono stati stanziati per questa finalità quasi 42 milioni di euro. Con il decreto odierno vengono assegnati ai comuni 10.474 euro e cioè la prima trimestralità relativa all'anno 2018. Le somme sono state previste anche per il 2019 e non possono subire operazioni né in aumento né in diminuzione in quanto si tratta di somme certe già inserite in sei leggi approvate dal Parlamento regionale che fanno riferimento ai diritti dei lavoratori già inseriti nel regime transitorio dei lavori socialmente utili e che non possono essere messi in discussione. E ancora parliamo di porti, porti siciliani consentito lo sbarco del pesce spada ma ampliata anche l'operatività. È stata accolta la richiesta dell'assessore per l'agricoltura e di bandiera di aprire il porto di Siracusa allo sbarco del pesce spada e ampliare anche l'operatività del porto di Mazzara del Vallo. Sono rimasti esclusi dall'elenco dei porti autorizzati allo sbarco e trasbordo del pesce spada e del tonno. Oggi i porti di Siracusa e Mazzara del Vallo vedono finalmente luce all'interno dell'elenco stilato dalla Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonni. Nella fattispecie il porto di Siracusa potrà accogliere lo sbarco del pesce spada nell'arco delle 24 ore mentre il porto di Mazzara del Vallo vedrà ampliata la propria operatività che passerà dalla fascia oraria 8.14 sino al tramonto. Si resta in attesa che lo stesso ampliamento così per come richiesto dall'assessore bandiera investa anche il porto di Pozzallo. Abbiamo ottenuto un risultato importante considerato un elevato valore commerciale che rivestono i porti e gli esemplari catturati, afferma Bandiera. L'obiettivo sul lungo raggio è quello di estendere anche al tonno rosso per il quale è in corso una battaglia col Ministero e tutte le garanzie delle nostre flotte pescherecce. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Vi raccontiamo la storia di un ex poliziotto disabile, ha bisogno di un accompagnatore però dice la graduatoria sarebbe ballerina. Vediamo perché. Casa del signor Antonio. Il signor Antonio non ha una gamba, ha diversi altri problemi ma il problema più grande al momento è quello di una graduatoria. Ha bisogno di una persona che si curi quotidianamente di lui, sua moglie ha altri problemi e non ce la fa più. Le ha dato quanto più possibile, le chiede che qualcuno si occupi di lei. È in una graduatoria che lei definisce però ballerina per ottenere. Esatto, non più altro ballerina. Non la considero propria perché non è possibile che nel giro di cinque giorni, una settimana io da una graduatoria quasi vincente vado a essere scavalcato da quasi il doppio da altre persone. Non ci credo, non ci credo, assolutamente. C'è una questione di sé che poi l'ha messa in condizione di poter ottenere ciò che chiede. Esatto, di poter ottenere quindi ingaggiare una persona per farmi le faccende personali più che altro. Perché, ripeto, mia moglie, nello stato fisico che è disastroso, non mi può più accudire. Perché lei, come vede, io ho bisogno di andare in bagno, ho bisogno di essere vestito. Non dico di darmi da mangiare perché questo, grazie a Dio, ce l'ho ancora. Però non riesco più. Non ce la faccio più. Cosa chiede adesso? Allora, chiedo io di farmi più che altro di vedere un po' la situazione, non dico mia, ma anche di tutti quanti le persone che siamo in questo stato, gravissimi in questa situazione, di essere più che altro visionati nella migliore cosa, né essere giusti perché la persona invaida non è considerata. Non sono invisibile io, non sono invisibile le persone che si trovano nella stessa situazione. si dà anche un tempo. Le ha detto non voglio aspettare ancora troppo perché ho bisogno subito. Sì, ho bisogno subito perché ho bisogno di vivere, perché ho il diritto anch'io di vivere e gli altri hanno il dovere di rispettare la mia personalità più che altro. Dopo la riunione di novembre alla Cassedile tornano a sedersi insieme ad un tavolo, Wiltec, Wilm e Fenel Wil per coordinare i lavori e comunque i diritti nelle quattro grandi fabbriche della zona industriale. Oggi, come dicevo all'inizio, abbiamo riunito questi coordinatori che avranno quindi il compito di interfacciarsi fra le tre categorie appunto per dare seguito a quell'evento che abbiamo fatto il 24 settembre. Quindi questo diciamo che è uno strumento che dovrà servire attraverso comunque questa sinergia fra le segreterie e le rappresentanti del sindacale per confrontarci giorno per giorno per tutte le problematiche che dicevamo all'inizio. L'area industriale continua ad essere un crogiolo di grossi problemi. Continuano a spuntare giorno dopo giorno, continuano ad essere sempre più pesanti, soprattutto quello che riguarda la sicurezza e per quanto riguarda i livelli occupazionali. Per cui dopo la riunione intercategoriale del 24 novembre stiamo continuando a lavorare. Non abbiamo ancora finito, stiamo facendo piccoli passettini avanti, la riunione di oggi ha anche questo. La cosa che dobbiamo ancora fare è che dobbiamo cercare di coinvolgere sempre più anche le altre organizzazioni sindacali e le altre categorie di CGL e CISL. Noi avevamo preso un impegno con il nostro gruppo dirigente il 24 novembre che era quello di dare seguito alla nostra azione. Oggi lo stiamo facendo istituendo quelli che saranno i coordinamenti nelle grandi quattro fabbriche di questo territorio perché noi riteniamo che le problematiche dell'area industriale che stanno venendo fuori necessitano di essere affrontate unitariamente. Non ci sono più problemi di singole categorie, ci sono problemi dei lavoratori che vanno affrontati in maniera unitaria e per questo facciamo un appello ai nostri colleghi delle altre due organizzazioni sindacali perché finalmente chimici, metalmeccanici ed edili in maniera unitaria possono affrontare insieme i problemi dell'area industriale che stanno diventando determinanti. Questo è un periodo in cui si sta decidendo se l'area industriale di Siracusana avrà un futuro o meno. Parliamo adesso del mese in corso, il mese di maggio, tutti segresti di un mese davvero particolare. Giovanna Marino, scrittrice e ricercatrice di tradizioni popolari, con te oggi andiamo ad analizzare quali sono le tradizioni del mese di maggio perché comprende tantissimi momenti particolari per festeggiare il mese della primavera. Sì, è vero. Intanto proprio a partire dal suo nome, come è stato chiamato, maggio, che deriva dalla parola Omaia, che è l'espressione divina della grandezza della primavera, è da Maior perché è il momento accrescitivo di tutto quello che la natura in questo momento ci sta dando e ci darà nei mesi successivi con l'estate. Maia ha una tradizione molto lunga perché si riallaccia alla civiltà greco-romana e quindi fino a 1950 veniva festeggiato nelle frazioni di Siracusa perché erano molto più legate alla terra e quindi questa tradizione poteva ancora avere il suo aspetto di festa e di festa popolare. Il trionfo del mese di maggio sono le margherite gialle che crescono dappertutto nei campi, nelle trazzere, lunghe borde delle trazzere e le rose che ancora oggi andando per dire a Belvedere dove io vidi per ultima volta questa tradizione, questa festa, ancora vedete che c'è una grande fioritura di rose davanti all'ingresso che poi la banchina delimitava l'ingresso delle proprie case e veniva ricoperto da petali di rose. Ecco, le rose caratterizzano il mese di maggio e diventano anche molto significative per il cristianesimo, perché? Certo, perché poi la Chiesa di Roma dedica il mese alla Madonna e quindi diventa la Madonna delle rose e Maria diventa la regina delle rose, la rosa fra le rose. E allo stesso tempo la passione terrena che si caratterizza poi qui a noi in Sicilia come nei complimenti che gli uomini rivolgevano alle donne, che la donna per l'uomo siciliano era più della vita e più della libertà e quindi diceva se doveva caratterizzare proprio il suo sentire verso la donna, diceva si ti bella come una rosa rimaggio o parite una rosa rimaggio o cuvira vuoi vi rimaggio oppure la vita occuzza bella come uno bocciolo di rose. Quindi è questo, è bellissimo e speriamo che magari qualcuno ancora possa guardare la donna in questo modo. Il mese di maggio contiene anche l'ascensione di Gesù Cristo al cielo? Sì, l'ascensione perché cade dopo 40 giorni della Pasqua ed era anche una tradizione molto carina, era festeggiato perché è il momento dello spegnimento anche del cielo pasquale, del cielo per dire che è oramai l'allontanamento di Dio dalla terra, solo fisicamente ma non in realtà è sempre con noi e si accendevano dei falò chiamati vampanighi, vampanighi, le crocicche delle strade si festeggiavano ovviamente in Borgata, Santa Lucia, Siracusa e quindi questi crocicchi i ragazzi di 17-18 anni accendevano, facevano, preparavano il falò con grosse pietre attorno a una conca e accendevano il fuoco. Quando la fiamma si alleggeriva allora saltavano, si cementavano a saltare questo fuoco. C'è anche un animale che caratterizza il mese di maggio, qual è? Il cantore di tanta bellezza di maggio è proprio l'asino, con il suo raglio e perché è il suo momento di accoppiamento. Un scecco, per noi non usiamo la parola asino veramente, usiamo la parola scecco che viene dal turco, gli scecchi, e quindi che pare un scecco senza cura oppure è a destarura come un scecco, o ecco, specialmente ai bambini, oppure ti vedi che se non studi ti cresci una ricca come un scecco. Insomma, eppure questo meraviglioso quadrupede ha portato Maria in groppa verso Gerusalemme, può avere una storia meravigliosa di essere stato cavalcato da Gesù Cristo, da un re del re, da un Dio o figlio di Dio, quando entrò triomfalmente a Gerusalemme fra gli osanna del popolo. Questo è maggio. Questo è maggio. Parlando ancora degli amici animali, quindi lasciando l'asino andiamo a parlare della presentazione del tuo libro domani al dodicesimo istituto comprensivo di Belvedere. I cari amici dell'uomo. I cari amici dell'uomo. Sono dodici racconti che ho raccolto dalla viva voce di chi ha avuto questa esperienza con gatto, cane, polpo, istrice, pesciolini rossi. Insomma, ce n'è di tutti i colori. I bambini già lo hanno, come dire, hanno proprio commentato perché i veri protagonisti domani saranno i bambini della quarta A e della quarta B. Loro hanno letto il libro, soltanto che lo hanno apprezzato e se lo hanno apprezzato i bambini sicuramente è un libro che vale. Un grazie a te per la descrizione del mese di maggio, per le tue ricerche popolari e per tutto quello che fai, insomma, anche per dare la tradizione vera siciliana. Grazie. Bene, con questo è tutto. Il giornale si conclude. Vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.